A me è stato dato ogni potere. In cielo e in terra. Perciò andate, fate diventare miei discepoli tutti gli uomini del mondo. Battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro a obbedire a tutto ciò che io vi ho comandato. E sappiate che io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Grazie. 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 Grazie.